Signori siamo tornati con i video che vi piacciono tanto, sì perché ho notato che questo tipo di video vi piacciono un casino, ve li guardate tipo tutti Lasciate un botto di mi piace e io sono molto contento, per questo ve ne porto altri e spero che mi lasciate nei commenti altre challenge Non so perché ho parlato così, ma va bene Detto questo signori, nuova challenge, se trovo un porcellino maiale, uno schifoso maiale, chiamatelo come volete Il video finisce questa volta, non ricomincia ma finisce Vi invito a lasciare un bel mi piace, sto gesticolando un botto, iniziamo Come ci sono finiti in questa situazione, vabbè iniziamo Signori questo clip lo sto registrando alla fine del video ma me la metterò all'inizio per dirvi che abbiamo trovato Atlantide Cioè durante una challenge la troviamo Atlantide, ok? Quindi signori non potete non guardare il video fino alla fine, cioè abbiamo trovato Atlantide che fai, te ne privi Signori il nome del nuovo mondo che chiameremo questa volta e sarà definitivo affinché, o meglio finché non troveremo un maiale Sarà Spider Pork, ovviamente ci mettiamo il trattino Spider Pork, perfetto Il nostro Spider Pork già è stato completato Difficoltà normale, va bene così La cassa bonus ce la prendiamo Il volume lo abbassiamo Andiamo su creare Signore, signore, siete pronti per lo spettacolo? Avete presente? Quei cheerchains che vanno Signore, signori, ladies and gentlemen Ecco, ho voluto imitarli in modo un po' fallimentare in realtà Ma vabbè Ora, io ho il volume non alto Di più Ma va bene Questa quarantena Oh, questa quarantena mi sta facendo un po' impazzire Ma vabbè, ce la prendiamo così Ora, dov'è la nostra cassa? Su, 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 sulla nostra cassa Dove sei? Eccoti qua Alberello, vabbè, non ci serve Neanche questo Ma vabbè, dai, i semi ce li prendiamo Questo ce li prendiamo Questo, 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 questo E questa roba qui ce la prendiamo E, indovinate un po', ce la teniamo Mamma mia Non se l'aspettava nessuno Quindi, non dobbiamo trovare Upwork, Umayaline Come direbbero nessuno in realtà Però, vabbè, lo dico io Comunque, come al solito In ogni video, in ogni tutorial In ogni video di Minecraft In ogni ogni Di ogni dove Ci prendiamo un po' di legno Oggi mi vedrete un po' più E voi direte, perché? E soprattutto Cosa significa? Niente Lascio intendere A voi Cosa che dove Ok, non dovevamo trovare un maialino Già mi stavo dimenticando Dobbiamo Ovviamente Settarci degli obiettivi Che obiettivi ci possiamo mettere Cari telespettatori O meglio YouTube Spettatori Bello, mi piace YouTube spettatori Io direi di Prenderci I materiali Andare ovviamente In giro ad esplorare Vabbè, dai, i materiali li abbiamo E va bene così Magari ci troviamo Qualche pecorella Che ci può dare Delle indicazioni Andiamo Andiamo Dal pecorone Andiamo E il legno Noi prendiamo Salve pecorelle Ah, cosa Oh, c'è anche un cavallino Eh, vengo anche da lei Eh, cosa crede Sia lì a Gingillarci la sella No, vengo anche da lei Allora Salve signora pecorella Come la va? Tutto bene? C'è un panino So che non è inter... Con quegli occhi lì Cosa ha fatto ieri notte? Lei? Allora, uno Uno Le stavo parlando Le stavo parlando Cioè Non è che ora uno mi si gira Mentre parlo Due Che cazpita ti giri Tre Che cazpita mi rovini il mondo Quattro Oh, signori Cosa scappa? Andiamo dall'altra Magari è più collaborativa Presente tipo poliziotto buono Poliziotto cattivo Beh Io sono il poliziotto cattivo Salve pezzo di merda Le stavo parlando Allora La sua pecorella Mi... C'è un pollo Oh, che culo Faccio Scelgo sempre le challenge giuste Pecorella dove credi di scappare Allora Dicevo Abbiamo tutti gli animali C'è anche una mucca C'è anche una mucca Allora Facciamo che le pecorelle Non sono collaborative Ce ne andiamo da altri Va Perché ste pecorelle Andiamo dal signor pollo Allora Salve Stavo cercando un certo maiale Si chiama Spider Pork Oh, guarda come mi ascolta Sì Lei l'ha visto? Non l'ha visto Ok Quindi Mi dice di andare a chiedere Alla signorina mucca Ok Oh 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 C'è un endermerd Guardi A lei non le dico niente Perché so che di natura È un pezzo di merd Quindi O meglio Un pezzo di end Ok La smetto Sì Allora Ha visto un certo maialino Beh Verso di qua Ok Io la sto seguendo La seguo Quindi se vado Verso destra Lo trovo Ok Dov'è la destra? Di là Ok 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 Quindi va bene Perfetto Io direi Di incamminarci Qua abbiamo visto un po' Tu Mi avevate teso una trappola? Mi avevate teso una tra... Ci penso io Sì 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 Tendetemi le trappole Guarda la trappola che ti tendo io Bravo Fammi cadere nell'acqua Fammi fare brutta figura Davanti a quasi 800 persone Bravo Tu invece cos'hai da dire a tua discolpa? Chi taccia consente Biac Cioè questi qua mi tendono le trappole E sperano che io non dica niente Aggiornamento di Fortnite Ok Allora ci farò il video di Fortnite Va bene Mi costringi Signori È un mondo difficile Ma lo accettiamo così Com'è? Altre due pecore Ma lasciamo le pecore Oh le api Signori voi dovete sapere una cosa Io in tutti i miei video Non sono mai riuscito a vedere le api Per due motivi Uno O non le trovavo E il secondo motivo Che è quello più Ilare Quello più divertente È che ogni volta Che vedevo le api E mi ci avvicinavo O morivo O succedeva qualcosa O vedevo l'acqua O il video ricominciava Succedevano cose E quindi non sono mai riuscito A vedere le api Oh c'è un bel alveare Andiamo ad esplorarlo Sto giro non lo rompo Perché lo so che se lo rompo O se tocco le api Mi esplode l'anima Oh guardate che bello Oh solo guardare Guardare ma non toccare Come nei musei Però una botta Io la tirerei No dai No dai Diciamo di no E niente Si va ad esplorare Lì vedo un palazzo enorme Che in realtà non è un palazzo È credo una montagna Ma fatemi sognare Ma in realtà In realtà Noi non lo vogliamo trovare il maialino So che voi vorreste un video Da 27 ore e 12 minuti Di me che vado in giro E dico E dico bagianate Ma no signori No Non avverrà Perché io il maiale lo troverò Perderemo la challenge Mi arrabbierò Però sarò soddisfatto Voglio arrivare in cima A quella montagna Voglio arrivare là in cima E vedere se succede qualcosa E voi direte Ma cosa vuoi che succeda Lascia fare Zitto e nuota Nuota e nuota Zitto e nuota Per chi avesse riconosciuto la canzone Me lo scrive nei commenti Vi dico già che è un cartone Con un pesce Come protagonista E sono alla ricerca Di qualcosa Però non vi dico cosa Non vi dico chi E non vi dico Quanta fatica sto facendo A salire questo corso d'acqua Ma signori Quanta fatica sto facendo E ora Oh oh No No Perché io devo far fatica A risalire un corso d'acqua Dove non ci sarebbe Nessuna fatica A risalirlo Sono stupido Sono stupido Allora Non so perché ho rotto quel pezzo Mi dava noia Però voglio tutto simmetrico Le malattie della simmetria Le malattie della simmetria Voglio salire appunto Lassopra Per vedere un po' la situazione E poi Siamo in c- No C'è una montagna più alta Dannazione Vediamo se vediamo Qualcosa Però Io vedo il totale Nulla Si sta facendo notte Di qua c'è il giorno Che bello il giorno Di qua Guardiamo la luna che sale La regia Mi mettete un po' di musica Di sottofondo Beh che c'è Sono io la musica di sottofondo Cosa credevate La luna È sopra le stelle Il cielo È dalla nostra parte E io Con un 360 Mi faccio Bungie Jumping Pensavo di morire Ho rischiato la morte Si Ho rischiato la morte È tutto per un Bungie Jumping 360 No scoop Oh my god Watcha 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 Ok Trofeo guadagnato Atlantide Cosa Signore abbiamo trovato Atlantide Fermi Fermi E la challenge Sta svoltando Cosa vuol dire Cosa vuol dire Atlantide C'è il senso So cosa vuol dire Atlantide Ma cosa vuol dire Che abbiamo trovato Atlantide Aspettate vado a controllare Il trofeo Aspettate un attimo C'è io ho trovato Atlantide In un mondo In un mondo a caso Signor villager Che non è un villager Signora negato Cos'ha da dirmi lei Ma non l'ho mai trovato Nel mio mondo No sono un po' triste Oddio ora non so come comportarmi Vabbè Signori non so cosa fare Immaginate se facevo la challenge Se trovi Atlantide Il video finisce E lo trovavo Ma che cazzo Abbiamo trovato Atlantide Non so come comportarmi Non so come esplorarlo bene Ok Fatemelo sapere Assolutamente Nei commenti Lì c'è anche un ragno Eh volevi trovarlo Tu Atlantide Pezzo di biac C'ho trovato io Bellissimo tra l'altro Atlantide Ora non so voi Ma io sono sempre stato Un fan Un patito Dei tipo Le sette meraviglie Le cose storiche Le cose segrete Sono sempre piaciute E Atlantide signori È una di quelle Signori Mi sono imbattuto negli zombie The Walking Dead Ok Il maialino non l'abbiamo ancora trovato Spero di non morire Altrimenti la challenge Potrebbe finire Molto prima di quanto pensassi Molto prima Signori sto scappando Sto scappando dagli zombie Non c'è neanche vita Mi inseguono ragni Zombie Scheletri Esplosioni varie Fiorellini Di tutto mi sta inseguendo Era l'anno 1972 Il maiale Il maiale Ancora non si era fatto vedere Le apine le avevamo ritrovate Ma il maiale Non si era ancora fatto vedere Masser stava correndo Nella notte La notte stava correndo Dentro Masser Che cazzo significa? Non significa niente Ma va bene Ce lo prendiamo così come è Se il creeper esplode muoio E la challenge è finita Allora Allora in questi casi La consideriamo Vittoria perché non abbiamo trovato il maiale O sconfitta perché siamo morti? Non lo so Fatemelo sapere nei commenti Ma soprattutto Fatemi sapere Come gestire Atlantide Ora lo so che ormai Questo mondo è morto Ma se nella nostra serie principale Dovessimo trovare Atlantide Come dovrei comportarmi? Fatemelo sapere nei commenti Oggi sto gesticolando un casino Ma va bene Ce lo prendiamo così come è Detto questo signori Vi ringrazio per la visione Spero che a questo video vi sia piaciuto Io vi invito a guardare Tutti gli altri Tutti Tutti Gli altri miei video Della serie principale di Minecraft Che ormai abbiamo fatto molti progressi E sono sicuro che vi potranno piacere Vi invito a lasciare un mi piace Condividere il video E di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Vi ringrazio per la visione Vi do appuntamento domani Alla solita ora Con un nuovo video Ciao